Si è svolto nella sede del Comando Legione Carabinieri Campania l'incontro sul tema cultura della salute e sicurezza sui luoghi del lavoro, organizzato dai carabinieri, con la partecipazione dei colleghi delle altre forze di polizia, per sensibilizzare il personale tutto su una materia estremamente delicata ed importante. Il Comandante della Legione Carabinieri Campania, Generale di Divisione Carmina di Norfi, nel ringraziare i docenti intervenuti, ha sottolineato l'esigenza di sviluppare iniziative così importanti per diffondere ulteriormente a tutti i livelli conoscenze fondamentali sulla cultura della salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. L'arma in materia è impegnata in modo capillare sul territorio, grazie al lavoro della stazione dei nuclei carabinieri Ispettorato del Lavoro.